zona di riscaldamento wow va bene va bene non è da sottovalutare e poi è bella stretta qui comunque è quella che ho messo alla marca se non è troppo secco insomma ti infilarti in un mezzo e devi prendere la larga qua e li larga qua e infilarti in su perché se no se va più su di là di attraverso di lì dentro di qui proviamo ok 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 Grazie a tutti. Lo stavo per mettere, ho preso un rischio. Non ho messo giù un piede là e un piede qua, ma stavo rischiando di cadere e prendere un 5. Mannaggia. Piano, è piano e bene i pesi. Fuori il culo. Questa non mi piace. Questo qua è brutto. Questo qua è brutto. Ma chi c'è? Vieni con l'antiscaldo, sai che dopo andiamo. Giù. Beh, potrei andare meglio. Quei saltari sono conciati. Adesso ti senti verso me. Ciao. Ostia. Anche la partita in tromba con il carrello dello Zampe. E tutto che è ficato. Mi ho compromesso della Madonna. Non paghemi il cazzo. Non posso usarlo. Il gancio che non si porta. è il carico di verticale per portare la moto almeno deve essere 100-110 mm, minimo, ma allora sopporta il peso, che non pesa poco, loro lo danno per 20 kg, ma non è 20 kg, se la 30, 35 kg, anche 40 kg.